Wow, 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 fermi, 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 questo è FIFA 2004 nel 2023, oddio, 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 no, sta per partire davvero, non ci credo Raga, fatemi sapere qui sotto con un commentino qual è stato il vostro primo gioco di FIFA, il mio FIFA 22 e il vostro fatemelo sapere qui sotto, vi lascio il video, buona visione Di notte, sette su sette Perché qui stiamo andando a fare la storia di FIFA, oggi vi porto FIFA 2004, eh sì, a voi non sembra il menu di FIFA 2004, nemmeno a me Però ragazzi vi posso assicurare che questo è FIFA 2004, prendiamo il joystick e iniziamo a guardarlo, controllarlo, vederlo, godercelo Perché questo ragazzi è il FIFA che ho giocato ma non mi ricordo praticamente nulla, ve lo posso giurare, si parla quasi di vent'anni fa Io non riesco a ricordarmi questo titolo e voglio andarlo a scoprire insieme a voi, non ho ancora provato nulla, vado a fare una nuova carriera Quell'anno lì, se non sbaglio, vinse la Juve nel 2005, l'Inter devo terza al Milan secondo, proviamo a ribaltare la storia, voglio provare a prendere i miei cugini Sì, farò una carriera con il Milan, farò una carriera appunto con i milanisti per provare a ribaltare la storia Milan è arrivato secondo, la Juve prima, proviamo ad arrivare primi noi e la Juve lasciamo là sotto, no? Che dite? È una figata perché ci sono pure le immagini vecchie, quella lì se non sbaglio è il mondiale della Fran... eh sì, eh sì, sì, potrebbe essere... Potrebbe essere il mondiale 2002? Potrebbe essere? Ci sono immagini veramente vecchissime, guardate qua per esempio, questo è il Brasile Facciamo una nuova carriera, non ho idea di che cosa sia per succedere perché non ho mai provato Proviamo a controllare un vero allenatore, non se ci hanno messo gli allenatori veri, ok Ci sono Mancini, Ancelotti e Bruno Conti, a noi ci serve Carletto Ancelotti Signori, signori, già vi dico che questa è una mod, chiaramente avete capito che il gioco è FIFA 23 Però è una mod patch, diciamo, patch 2004 Raga, vi lascio il link in descrizione ovviamente del mio modder di fiducia che mi porta tutte queste mod che potete provare anche voi Chiaramente se siete da PC volete provarla in anteprima a qualcuno, la posso anche mandare ma solo a qualcuno selezionato I primi che mi scrivono su Instagram gliela mando se volete provarla e gli altri ovviamente dovrebbero passare dal link in descrizione Proviamo Carletto Ancelotti, chiaramente c'è la face, Bruno Conti c'è la face, sì, 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 c'è anche Mancini, sì, abbastanza Prendiamo Ancelotti, guardate qui le nostre squadre Allora, c'era pure il Siena, allora partiamo dalla prima che dovrebbe essere, fatemi vedere, l'Atalanta, ok Bologna, Brescia, Cagliari, Chievo, raga, il Chievo, il famoso Chievo, raga, storia Fiorentina, Inter con il vecchio logo, Juve, con il vecchio logo, Lazio, Lecce, Livorno, Messina, raga, mamma mia Messina, il Milan appunto, il Palermo, il Parma, la Regina, la Sampdoria, la Sampdoria con tre stelle e mezzo Il Siena e l'Udinese con l'AS Roma finale, ah, era prima l'AS Roma perché inizia con AS, ok Noi scegliamo appunto il Milan, abbiamo 37 milioni di budget trasferimenti Ah, mi hanno detto che in questa mod, proprio il mod, mi hanno detto che non ci sono i prezzi boostati del giorno d'oggi Ha proprio mantenuto i vecchi prezzi quelli di un tempo, cioè i giocatori non costano così tanto ancora Quindi 37 milioni in realtà sono parecchi, sono abbastanza, sono quasi come avere 80-90 milioni adesso E si comincia, Mr. Carletto Ancelotti, per ora non vedo differenza Ah vabbè sì, c'è il logo della Serie A Team, diverso, non è quello di una volta Non è quello di oggi, scusatemi, ma è quello di una volta Mr. Carletto Ancelotti, ma è del Milan chiaramente, quella del 2004-2005 Vediamo che cosa si può fare, intanto qual è la rosa perché non ne ho completamente idea Ok, Carlo Ancelotti presentato a San Siro Andiamo a vedere la rosa, allora abbiamo un 4-3-1-2 con Dida in porta, Maldini, Nesta, Stam e Cafu Ci manca il terzino sinistro, non c'abbiamo Antonio Hernandez ovviamente Allora, c'è Borriello, c'è Inzaghi Chi è questo Doraso ragazzi? Io non me lo ricordo Non sono ovviamente tifoso milanista e quindi sono giustificato, posso non saperlo Però io non me lo ricordo nemmeno da tifoso interista questo giocatore Ma spostiamoci da questa parte ragazzi, guardiamoci, gustiamoci questi giocatori Allora, abbiamo Costa Curta, Simic, Darmian, Darmian senza face ragazzi Fiori, Matri, Dimitra Matri, Rui, Costa Dopo guardiamo anche un po' l'età Brocchi, Pancaro, Abate, Borriello, Calazze, Serginio, Abbiati, Tomanson, Rosini Inzaghi, il fratello di Simone, ovviamente Pippo questo Crespo e Stavicengolo davanti con Kakà ragazzi la qualità non manca Questo Milan che c'ha pure Pirlo e Sedorf Non so se si possono fare i cambi di ruolo, questa è una bella domanda Guardate quanto è bello ed in Gego 18 anni ragazzi È bellissimo, sotto a Hulk, c'è Marcello ragazzi che è giovanissimo Tutti questi stanno svincolati, pazzesco Hanno degli overall secondo me che possono crescere Dobbiamo fare una buona campagna trasferimenti Tanto fatemi vedere un attimo la rosa da vicino perché voglio capire se alcuni possono Tanto di da 30 anni lo teniamo con noi, secondo me è buono Blocchiamo le offerte, Abbiati a 26 anni più giovane blocchiamo le offerte potrebbe crescere Fiori 35 anni, 71 e insomma Stam 31 anni potrebbe farci ancora comodo anche se il difensore centrale ne abbiamo fin troppo Ma raga Calazzo e Giorgiano come Quaraschedia Quante cose si scoprono Ovviamente Paolo Maldini insostituibile, il problema è che c'ha 36 anni con tratto di scadenza Sarà tosta Due maglie come questa della Lazio sono perfette proprio come le originali L'unica differenza è che il prezzo qui è bassissimo Il sito ovviamente è FC Maglia Ti lascio il link qui sotto in descrizione Puoi trovare questa ma anche tutte le tue squadre preferite in Italia e in tutto il mondo Ah e quando sei nel carrello ricordati il codice seppi Altrimenti non hai gli sconti e non hai nemmeno la spedizione gratuita Il futuro sicuramente sarà Nesta Questa curta c'ha 38 anni raga Proviamo a farci un po' di cash con questi Darmian 45 la vedo dura Cafu 34 anni raga Tutto il bene che gli vogliamo però dobbiamo fare cash Perché ci saranno delle risorse in quei punti della squadra Abbiamo Simic, Pancaro è di troppo Gattuso 26 anni e 86 io me lo terrei volentieri Gli farei un piano di crescita lo metterei CC Perché voglio giocare col 4 e 3 offensivo Ah non lo può fare il CC mannaggia In compenso può fare il terzino tra 4 settimane Ma perché sta cosa? A parte che non il terzino ci serve Famo ste follie tanto le fanno tutti Cioè pure Ancelotti ha messo Parlando proprio di Ancelotti che abbiamo adesso come allenatore No ha messo Camavinga terzino Quindi noi qui possiamo metterci Gattuso terzino Ambrosini 27 anni ce lo teniamo Brocchi 28 anni ce lo teniamo Serginio 33 anni proviamo a venderlo Pirlo 25 anni io ci punto su di lui ragazzi lo blocco Seedorf C.O.C. mi piace ma ci abbiamo già C.K. ragazzi A meno che Seedorf non mi faccia il CC 152 settimane so tante Però per il momento iniziamo a farglielo fa C.K. non si tocca ovviamente Ma nemmeno Seedorf in realtà Centrocampo storico fortissimo del Milan Manca praticamente solo Ruth Gulli Questo Draso io non lo conosco io lo metto in vendita Lui Costa ragazzi lo devo vendere 34 anni Abate ragazzi si tiene di 17 anni Grande talento di questo Milan Sevcenko non si tocca ovviamente ragazzi È devastante 27 anni 90 Crespo 28 anni 85 Fortissimo ma abbiamo anche Inzaghi che ha 30 anni 85 Vendiamo allora Inzaghi Anche se so che i milanisti mi odieranno Però abbiamo Crespo che è nettamente più giovane Mi serve Oh ma questo Tomanson comunque come riserva non è male È un po' il decatelare del giorno d'oggi Perché è AT, ATT, COC è lui È il Mitramatri giovanissimo che fai lo vendi No lo tieni Ma guardiamoci un po' intorno Perché io ragazzi ho visto degli svincolati interessanti Arturo Vidal 17 anni David Luiz 17 anni Ce ne sono interessanti Ce ne sono e come Arshavin 23 anni 73 Montari giocava dell'Udinese Eh i talenti ci sono ragazzi Fatemi mandare questi osservatori Istruzioni e osservatori Perché io ragazzi non ho idea di chi sono i più talentosi nel 2004 Penso nemmeno voi Ma fatemi sapere qui sotto nei commenti Qual è stato il vostro primo FIFA giocato Perché se lo trovo quello lì E non l'ho ancora portato sul canale Io lo cerco, lo prendo e ve lo porto sul canale con un nuovo video Promettente va bene Però ne voglio un altro Modifica istruzione Qualsiasi ruolo Da prima squadra No che regista No da prima squadra è promettente Va bene Età lo voglio bello giovane Cioè vabbè giovane fino a un certo punto Va bene anche 20-25 No va benissimo 16-25 va bene Va bene va bene Adesso andiamo qui E andiamo su osservatori E li spostiamo Allora uno qui Cos'è in Italia questo? Uno lo mandiamo in Spagna Uno in Inghilterra Oh perfetto Uno è qui Ottimo Ottimo Questi sono disponibili Uno che fai? Non ce lo mandi in Francia Eh sia Ma uno buttiamolo pure in Germania Attendiamo istruzioni degli osservatori Nel frattempo guardiamo che cosa hanno trovato Se però gioco 4 e 3 Mi saranno le ali E io ho Selcenco e due ali Due ali non ce li ho Ma tipo Ronaldo nel 2004 Quanto era? Scusatemi No la mia curiosità Perdonatemi Cristiano Ronaldo Oh c'è esterno destro 19 anni ragazzi Attenzione Eccolo qui Oh Oh fermi tutti 19 anni 88 Ha il potenziale per diventare Calmi 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 Vendo tutto per lui ragazzi No Ronaldo al Milan ragazzi È il sogno di una vita di ogni milanista Aspettate un secondo Aspettate un secondo Cerca giocatori No 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 Fermi 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 Perché posso far impazzire a tutti i milanisti Lionel Messi 17 anni 76 Calmi Calmi milanisti Calmi Calmi State seduti Non state in piedi sul divano Che già vi vedo scattare sul divano Allora se io gioco con un 4-3-3 Offensivo Difensori centrali Due ce li abbiamo Non mi uccidete Non mi uccidete Lo so che mi uccidete ragazzi Allora Deleghiamo Anzi Deleghiamo il rinnovo Si Ah ma comunque sono prezzi più bassi Deleghiamo Si un anno Ok così non è scadenza Aggiungiamo la lista di trasferimenti Non mi odiate Ma non lo devo fare Per il vostro futuro Milanisti Avete già vinto tanto Con Paolo Maldini Lo so Mi state odiando Lo so Lo so Crespo Aggiungiamo la lista di trasferimenti Tomansson Aggiungiamo la lista di trasferimenti E Enzaghi L'ho già fatto Perfetto Lo so che sono un po' delle follie Ma le devo fare Per cambiare il modulo Oi 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 Allora Stam non ce lo do a Liverpool Raga state tranquilli Con i prezzi bassi State tranquilli Sono giusti i prezzi bassi Sono giustissimi Beh Serginio Vabbè 77 Lo diamo Gli lo diamo Dai Gli lo diamo alla Samp Ma pure ai Rangers Voglio solo soldi per Vicosta Cafu ragazzi No Quest'anno qui Eh però raga Però raga 34 anni 34 anni Che lo tengo a fare Mamma mia Mamma mia Ronaldo e Messi Mamma mia Fatemeli vedere Fatemeli vedere C'è raga guardateli in faccia Sono loro Cristiano Ronaldo E Lionel Messi 17 anni E 19 anni Il futuro Il futuro dell'Europa L'elite del calcio europeo Potrebbe arrivare al Milan E clamorosamente Cambiare la storia del calcio italiano Qualcuno siamo riusciti a vendere Abbiamo 48 milioni Eh possiamo fare qualcosina Con questi 48 milioni Qualcosina del tipo Tentare l'approccio Per Messi Perché l'altro costa ancora troppo Non paghiamo nessuna clausola E ci storia Non pensavo ci fosse la clausola Nesta Lo vuole il Barcellona Rifiutiamo subito Maldini Scambio Curro Torres Delega Soldi 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 Sono pochi Lo so Lo so Ma mi servono i soldi Cristiano Ronaldo Raga è quasi inarrivabile Come è giusto che sia Perché era quasi inarrivabile Anche all'epoca Eccolo qui Doraso 2 milioni e 4 Va bene E Hernan Crespo 22 milioni Accetto subito Potrebbe essere la chiave Per Ronaldo Dizioni che Messi ha accettato Cioè guardate Guardate lo stipendio di Messi Glielo alzo leggermente Glielo alzo un pochetto Perché se lo merita Però ragazzi Era veramente basso È vero che comunque Dovevo ancora dimostrare Possibile cambio di ruolo Per Gattuso Dizioni 3 2 1 Terzino Raga vediamo se fa il TS Sì fa anche il TS Ottimo Messi ha accettato Signori 3 2 1 Messi a Milanello Con Ancelotti e Kakà Ragazzi Incredibile La storia sta per cambiare Definitivamente Crespo Al PSV Eindhoven Che colpaccio Gran colpo però Anche per il Milan Da Barcellona Arriva Messi E ora ragazzi L'inarrivabile L'ho richiesta 83 milioni Ma potresti chiudere Offrendo intorno ai 66 Facciamo che te ne offro Così Così Vediamo cosa dicono Da Manchester Rui Costa 10 milioni Va bene Pancaro 1 milione Va bene Brocchi Rifiutiamo l'offerta Rifiutano Rifiutano l'offerta Di 68 e 3 Rifiutano Ci vuole più cash Per il sogno Per andare A fare il colpaccio Di mercato Delega per acquistare Alziamo leggermente Alziamo leggermente Il massimo era 88 Facciamo tipo 80 Non ce li ho C'ho 78 Facciamo 77 così Vediamo Vediamo cosa dicono No non ce stanno Non ce stanno Non ce stanno Siamo agli sgoccio Di questo mercato Ultimo giorno Nelle finanze Ora abbiamo 122 milioni Abbiamo avuto anche Rui Costa Andiamo a trattare di persona Con il Manchester United Offerta per il cartellino Il valore è 53 Io te ne offro 80 Per il momento Ah basta venire di persona E dimmelo prima no E vorrei accettare Questa offerta di cruciale Vorrei farti un 4 anni di contratto Se vuoi Perfetto Ottimo E poi Visto che sei un fenomeno Io direi di farti un bello stipendio Che dici Eh ci stai Sì ci stanno Ci stanno Ci stanno Cristiano Ronaldo È del Milan Gran colpo Colpaccio 80 milioni All'epoca ragazzi C'è come spendere 200 milioni oggi quasi Signori che squadrettina Mamma mia che squadrettina Eh Secondo me tanta roba Piani di crescita Ovviamente come se piovesse Ronaldo Alla sinistra Deve diventare il prima possibile E che la stagione abbia inizio Sì eccolo qui Ok 90 di overall Ottimo Messi sta crescendo anche molto bene Però voglio di più da questa squadra Voglio di più Abbiamo il ritorno col Manchester City a marzo All'andata abbiamo fatto 1 a 1 Ma bene Molto bene Questo Milan sta iniziando a girare Mi piace Siamo fuori per i calci di rigore agli ottavi Ma ci posso stare Il primo anno ci può stare È un primo anno per tutti Che comunque Ci porta in finale di Coppa Italia Contro l'Inter Purtroppo I miei nero azzurri Purtroppo Siamo al 75esimo Volevo un attimo vedere come Com'era giocare in game Un FIFA 2004 Eccolo qui Signori stiamo in vantaggio Siamo in 10 uomini Espulsione di Nesta Dopo pochi minuti Al quarto minuto se non sbaglio E gol di Andrea Pirlo Ovviamente con la sua specialità La maledetta su punizione ragazzi E quindi ho dovuto fare un po' di cambi Cacà Belle però queste maglie Devo dire Molto belle Oh Savcego Come se ne va Savcego Andri 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 Savcego Savcego Se la porta in fondo Savcego Savcego Non esulto troppo Perché è la mia Inter Fatto uno squadrone Troppo forte Ma poi l'Inter non era fortissimo Cioè non è l'Inter del triplete Questa Un Inter Sì forte Ma un Inter non fortissima Se ne va 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 Occhio al Bobo Revieri Di Dama L'arbitro fischia E dice che Quest'anno Al primo anno Con i colori sono neri Portiamo accanto al primo trofeo E quindi si alza Primo trofeo per i rossoneri È brutto da vedere per me Da interista Però comunque Primo trofeo L'abbiamo portato a casa Stiamo creando uno squadrone Raga È terminato pure il campionato Voglio vedere la posizione In classifica Secondi Dietro Juve Terzo Inter Incredibile È finito esattamente Come era finito quell'anno Prima Juve Secondo Milan E terzo Inter Incredibile Seconda stagione Allora Le prime operazioni Che volevo fare Intanto guardiamo un attimo Gli osservatori Che cosa mi hanno portato Quagliarella Sarebbe fortino Oh oh C'è anche un Guillermo Occio Non c'è credo Non c'è credo manco Se lo vedo Baines Amauri Chiellini Chiellini raga Potrebbe essere un bel rimpiazzo Io Chiellini Me lo metto tra i preferiti Perché Dal momento in cui Se ne andrà Il signor Stam Chiellini raga Sarbbe tanta roba In Inghilterra Cosa mi ha portato Questo è svincolato Svincolato Marsello Mi piacerebbe un botto Però è troppo basso Di overhaul Oh c'è Clisci 74 Però mi sarebbe Uno di più fuori Adesso cerco Un terzino destro Eppure Leonardo Moluccio Ma è molto più Scarso In Spagna C'è qualcosa Di interessante C'è un certo Andres Iniesta Ma costa un botto Di soldi Ma poi in mezzo al campo Siamo messi benissimo Noi Porca Valero Ah Navas Jesus Navas Scusate ma da quando È COC Jesus Navas Lo è stato? Porca Valero Real Madrid Fernando Llorente Svincolato Mamma che ricordi Hernanes è il profeta Oh terzino Oh 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 Fermi tutti Fermi tutti Ha dato l'addio al PSG Qualche giorno fa Fermi tutti Fermi tutti Era considerato terzino Quell'anno Mamma mia Mamma mia Che colpaccio Grazie agli osservatori Fatemi vedere qui Fatemi vedere qui C'era Jeremy Menez In Francia Ragazzi Questa è la storia Di Karim Benzema TT Mamma mia Qua c'è la storia Amanda Andapa Ha fatto la storia di FIFA Ma del calcio in generale Allora I preferiti sono Giorgione Chiellini Sergio Ramos Douglas Maicon Mamma mia che maglia Sembra un po' quella di quest'anno Quest'anno ragazzi Il Bayern Monaco ha tirato fuori Una maglietta Mezza bianca È la prima Proprio la prima maglia E Philip Lam 80 ragazzi Sono tutti Sono tutti i 380 Io prenderei il più giovane Sergio Ramos ragazzi E poi mi prendo Chiellini Me lo metto in casetta Lo faccio crescere E poi quando se ne va Stam Ci metto lui titolare Anche qui Stiamo distruggendo la storia del calcio Stiamo completamente ribaltando Chiellini al Milan E invece Monucci Per esempio c'è stato Ha fatto il pazzerello Pure lui Il primo colpo è Sergio Ramos Pagato 19 milioni Che non sono pochi Quell'anno Mentre il secondo colpo È Giorgione Chiellini Dalla Fiorentina Pagato di meno Ramos direi subito Immediatamente titolare Mentre Chiellini Farà un po' di gavetta Non possono mancare ovviamente I piani di crescita Gattuso finalmente Terzino sinistro Annunciato Dopo i primi 3-4 mesetti A fine novembre Ci ritroviamo In classifica primi 40 punti Davanti alle Ume Per due punti Solo 38 per la Juve È lì vicina Comunque ragazzi Dobbiamo stare attenti Bravo Messi Che sale A 84 Deve l'all Bravissimo Ronaldo 92 Serginco 91 In mezzo ragazzi Siamo veramente forti Adesso Sedos Potrebbe essere quasi pronto Stam Nesta Non No addirittura Nesta Sale ragazzi Dita sale Ottimo ottimo Sergio Ramos Già più 2 82 Bravo Gattuso Che sta da quella parte 8 settimane E poi Sedos Eccicci Super Coppa Italiana Vinta Let's go Mentre becchiamo L'Olympique Lyon A febbraio In due tave di finale Chelsea Ai quarti Quell'anno lì era fortissimo Però vinciamo l'andata 2 a 4 0 a 1 Al ritorno Quindi Quindi è semifinale Con l'Arslan Allora io non è che Vecchiello di andare a vincere La Champions League Minas Però nel 2007 Vedete voi 2 a 2 Come vi dicevo All'andata Ora si gioca il ritorno Fatemi un po' vedere Chi c'hanno questi Uh ma c'hanno Nostro Cafu Eh immaginavo C'hanno Enri là davanti Mannaggia Verone Vierà in mezzo al campo Ashley Cole Uh uh Ma noi non siamo da meno ragazzi Eh non demoralizziamoci Perché ci abbiamo messi E Ronaldo Eh a parte quelli Poi abbiamo tutto il vecchio Milan fortissimo Oh vai Mannaggia Oh traversa Bella 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 1 a 0 Così Andri Sevcenko Al 78 Mette il 2 a 0 Anche Claudio Stelor Fa il 91 La può buttare dentro E quindi Raga Sarà ovviamente Real Madrid Contro Milan Che Che squadronne Che abbiamo fatto Oi 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 Oioi oi Milan Real Casella Stores Samuel Bordon Roberto Carlos King Capitano King Guti Me lo ricordo Beckham Wendel Zidane Ronaldo Il fenomeno Ho scatenato però Questo Milan Rikki Kakà Andri Sevcenko 12 minuti 2 a 0 Milan Let's go Ronaldo Il fenomeno 2 a 1 Riapre il match Rikki Kakà però rimette Il Milan in careggiata 3 a 1 Manca veramente pochissimo Ragazzi Stiamo per riscrivere La storia Addirittura prima Del vero Milan Che l'ha scritta Nel 2007 Qui siamo nel 2006 L'arbitro fischia E può definirsi Conclusa questa finale Di UEFA Champions League Contro IETL Madrid Sono Dico sono Perché Non io Ma loro Sono I campioni D'Europa Attenzione Per un punto Stiamo sotto Eppure pensavo di avere vinte Quasi tutti ragazzi Mi ha vinto 31 partite La Juve ne ha vinte 30 Però ne abbiamo fatto più sconfitte Lei ha fatto più pareggi 97 punti contro 96 Incredibile Il campionato Non l'abbiamo ancora vinto Fatemi capire Vogliamo fare il tripletino In tre stagioni diverse Va bene Io ci sto Terza Ed ultima stagione Beh ragazzi La squadra senza ombra di dubbio È ben fatta L'unica cosa sarebbe da cambiare Quello Stam lì Alla difesa All'epoca Chi c'era di forte Rio Fernand Forse 88 Eh 27 anni Lui tanta roba E poi che ne dite Se ci prendiamo Casillas Dal Real Madrid 92 euro È arrivato In finale di Champions League Contro noi È uno dei migliori al mondo Ora con questa squadra Ditemi voi Chi ci può stare dietro In Italia Nemmeno la Juve penso Ragazzi Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Quale è stato Il vostro primo FIFA Che avete giocato Nella vostra storia Fatemi sapere Qualche altri talenti Avreste acquistato Quest'anno Guardate qui Qual quadrato C'era pure il Sergio Aguero Ma sicuramente Ce ne sarebbero stati Tantissimi altri Che non abbiamo nominato C'è pure Alexandre Pato Incredibile Io mi vado a giocare L'ultima stagione Di questo Milan Sperando di vincere lo Scudetto E noi ci vediamo Nei prossimi giorni Con dei nuovi video Mi raccomando Scrivetemi qui sotto Il vostro commentino E mi trovate su tutti i social About Seppi Instagram, TikTok, Twitch E YouTube Ovviamente Bye